Benvenuti in una nuova puntata del tavolo con Puzze Oggi vi farò quest'altro con i funghi Dentro c'era soltanto questa bustina così lunga di solito ce ne erano due e questa qui più quella con l'olio invece facendo una sola e ora vado a mettere il contenuto dopo aver messo la bustina ho mescolato poi ho messo un po' d'acqua fino al tratteggio e ora vado a metterlo nel microonde ricordatevi sempre di togliere il coperchio e nello scelgo mai il coperchio per lo mettere nel microonde ho messo 3 minuti anche se c'era scritto 4 e aspettiamo e finisca il microonde mi pare che dopo si deve mescolare dopo che si do il microonde e aspettare 3 minuti prima di mangiarlo e questo è tutto se il video vi è piaciuto mettetevi mi piace, iscrivetevi al canale e aspettando che riesca un'altra ricetta ciao